Salve! E se esistesse un telecomando magico? Io farei questo. Guardate il video. Tonino! Mi hai andato alla scuola, hai capito due al compito, è vero? Mamma, ma io... No, ora mi hai stufato e ogni volta te ne vedi con qualche scusa. Ho incanduto alla lavagna, cioè l'hai fatta cadere tu, ho picchi la professoressa, va... Mo, guarda che culo che ha quella. Sarà mia. Tua, vabbè. Sì, mia, perché? Sì, vabbè, va. Come hai fatto? Eh, sono io, vieni con me. Mo, che tette che abbiamo qui. Eh, che... Eh, mo, bei meloni, eh? No, ma questa qui non c'è le puntandine. Eh, porcellona. Mamma. Mamma. Ma! De! Mi fai un panino? Senti, non rompere, devo prima finire di pulire la cucina e poi ti faccio il panino. Hai capito? La la, la la. Devo aspettare? Va bene. Tieni il panino. Tieni il panino. Hai visto? Tutti possono aspettare. Anche un provolone come te può aspettare. Hai visto? Sì, aspettare. No, vi prego. Non fatemi nel male, vi prego. Vogliamo i tuoi soldi? Sì, i tuoi soldi. Col cazzo! Sai, devo dirti una cosa. Dimmi, tesoro. Io, io... Sì? Sì? Aspetta, ho avuto una notifica su Facebook. Ma come sei dolce, amore, ti lovo. Vabbè, stavo dicendo. Ah, sì, io... Ti amo. Ti amo. Che tenera. Non lo voglio risentire. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Oddio! Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Oddio! Oddio! Ritorno in te! Ritorno in te! E voi, cosa fareste se avessi un telecomando magico? Che ce l'ho. Fatecelo sapere con un commentino o un video risposta. Al prossimo video! Ah, ma guarda quello lì che mi sta tosto! Ma guarda! Mi fai che c'ho le tettone! C'ho le tettone! Oggi, oggi, non era così il mio tempo. Io, io sono una ragazza! Vabbè, anche voi ragazze. Ma guarda quello è da buono! Sì! Guarda questi peloni! Guarda, guarda! È il bastone!